Vabbè si dice che la squadra che vince non si cambia mai, sono tutte a disposizione, in settimana non ho scoperto grosse cose nuove, nel senso che è quello che mi aspettavo e penso di riproporre la stessa formazione. Io sono soddisfatto sull'impegno e anche sulla curiosità loro, nel senso che vengono a chiedere come fare, le squadre di solito piatte che tu ci parli e loro ti cadono la testa, però almeno questi chiedono perché fanno una cosa e non un'altra. Un discorso che sicuramente faccio calcio un po' diverso da quello che c'era prima è che ho bisogno di gente che è più aggressiva, più in movimento. Perché poi Pescara per me ha giocato le partite bene, però per me è sempre sotto ritmo, anche Odo ha fatto benissimo, ha vinto il campionato. Per riconoscenza doveva rimanere, anche se si trovano poche squadre che 24 partite non ne vince una, però non leva niente di Odo che ha fatto benissimo per portare a Pescara in Serie A, che non è mai facile. Per me è una squadra che è una squadra che dà fastidio, ha fastidio a tutti, visto che è una squadra che ha vinto anche a Milano con l'Inter in ultimi tempi. È una squadra che ci piace essere attaccata perché sono messi bene in fase difensiva e davanti ci hanno giocatori importanti secondo me. È una squadra molto esperta, penso che è la più vecchia del campionato e quindi sa gestirsi le situazioni. Penso che noi dobbiamo giocare partita su partita, quindi non ci sono tabelle. È normale che, non mi aspetto che vinciamo tutte, ma dobbiamo pensare a partita, a ogni partita cercare di dare massimo. Io spero che alla squadra rimane la voglia di domenica scorsa di potersela giocare con tutti.